La location è stato il museo della carta di pescia. Qui sono stati resi noti i risultati del bilancio ambientale dell'industria cartaria italiana. L'industria cartaria, si è detto al tavolo dove è stato presentato il rapporto, è un settore chiave della bioeconomia circolare che ha investito nel riciclo e nella sostenibilità delle materie prime. Il rapporto ambientale a Socarta 2022 è stato organizzato in collaborazione con Lega Ambiente e il supporto di Confindustria Toscana Nord nell'ambito del congresso dell'industria cartaria organizzato da Aticelca, associazione italiana dei tecnici cartaria. I dati sul settore della carta sono abbastanza confortanti in quanto c'è una crescita importante della produzione. Si sta lavorando moltissimo sulla sostenibilità perché è un tema ovviamente centrale e importante per tutto il settore della carta. Siamo di fronte a una transizione, quella energetica in particolar modo, che impegna moltissimo il settore ma che non lo trova impreparato in quanto da molti anni si sta lavorando per cercare di avere degli impatti ambientali molto ridotti rispetto a quello che potrebbe essere non avere questa attenzione. Quello che però ci impressiona un po' è che siamo convinti che questa transizione energetica non riuscirà a mettersi alle spalle, quantomeno se riuscirà a farlo con molti combustibili fossili sarà un po' più difficile mettere da parte il gas e allora quindi noi siamo dell'idea che dobbiamo andare avanti con questa transizione cercando però di tenere in piedi quello che è il meccanismo dei consumi. Il Museo della Carta è a sede in una struttura che risale al 1700 e c'è nell'antico pificio della cartiera Le Carte dove sono conservati anche tutti gli impianti e macchinari originari dell'epoca. Una delle funzioni del museo è anche quella appunto di ospitare mostre, eventi collegati all'industria cartaria.